Stiamo lasciando Vitilini e un po' di mare Lasciando Vitilini abbiamo di poppa il castello, è piuttosto bello da vedere da qua, molto esteso Avanziamo a 5 nodi e mezzo, un po' di maretta, di prua, si viaggia che è un piacere Mare tranquillo, 12 miglia a Metimna 6 nodi e 2 allo strumento